Ah ah! Guarda chi c'è! E voi che ci fate qui? Stai scherzando, è il weekend genitori! Cazzo! Ah, ti vedi con una ragazza, meraviglioso! Grazie mamma, senti, siamo sotto copertura, ok? Grazie. Niente, figurati. Doug! Maya! Ciao! Ciao! Sono i miei genitori. Oh, quindi è lei la ragazza! Ciao, io sono Annie, la tua nuova suocera. Che scherzo. Piacere di conoscere. Salve. David, mio padre. Piacere di conoscere. Beh, anche i miei sono qui. Maya! Sbrigati! Tua madre ha trovato il tavolo che le piace. Come conosci quello? Papà, lui è Doug, il ragazzo con cui mi vedo. Che cazzo? Ah, io... Come vanno i tuoi corsi, Doug? Oh, ero qui nei paragri. Ho un'idea, perché non ci sediamo tutti insieme? Sì, grazie. Allora, le piace il clima? Vi conoscete già? No. È assurdo. Tutti questi... studenti, genitori, potenziali testimoni. Come vi siete conosciuti? Adoro sentire queste storie. Ha un'improvvisazione di poesia e poi lui mi ha seguita fino al mio dormitorio. L'hai seguita? Ah, è davvero bellissimo. E poi che è successo? Poi abbiamo chiacchierato e guardato un film. Anzi, l'abbiamo guardato un paio di volte. Un paio. Ma porca puttana! È una cazzo... Cavariere! Che deve fare un uomo di colore per avere dell'acqua? Date a quest'uomo dell'acqua! È nero, ne ha già passate tante! Per il bene di tua figlia, ti prego, resta calmo. Mi vado a prendere una cazzo di crepe, se no impazzisco. Torno subito. Allora ecco, voi di dove siete originariamente? Io vengo dritta da Compton, ma mio marito è di Northridge. Andiamo, butta qui. Che cazzo state facendo? Razionate il cibo? Andiamo, metti nel piatto. Due fagiolini? Dammi quei cazzo di fagiolini! Voglio anche uova alla diavola. Mi piace la frutta? Non ti piace la frutta? A me piace la frutta! Cos'è? Maiale! Si sta sfogando col buffet. Quella roba fa cacare! È sotto pressione al lavoro. Brutto rimorchione, ti piace il cinema? Io ti spezzo la gaffe, cazzo! Ti spezzo la gaffe! Che cazzo? Che cazzo guardi, pianta? Ma fa cule, resta lì!